signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai il vostro ospite su questo canale negli scorsi video delle fondamenta del dungeon abbiamo parlato delle linee narrative e abbiamo detto che ogni linea narrativa è caratterizzata dal suo conflitto non abbiamo mai però parlato di che cosa sia il conflitto narrativo che probabilmente doveva essere il primo video di questa serie ma lasciamo perdere questa settimana quindi andiamo proprio a vedere cosa sia il conflitto narrativo e come lo si definisce all'interno del gioco di ruolo prima di cominciare però vi ricordo che questa è l'ultima settimana che avete a disposizione per rinviare le vostre proposte per quanto riguarda la quest che stiamo scrivendo assieme nella rubrica dello scrivere una quest dalla prossima settimana io dovrò mettermi a lavorare sui video quindi chi scriverà dopo domenica prossima mi dispiace ma sarà fuori tempo massimo vi ricordo anche che anche se avete già inviato la vostra proposta o non volete inviare una vostra proposta passate a rileggervi commenti per leggere e valutare le proposte che hanno fatto gli altri e colgo ulteriormente l'occasione per ringraziare tutti quelli che decideranno sia partecipando che votando perché senza di loro la rubrica non potrebbe esistere e quindi la vostra partecipazione garantisce che la rubrica ci sia sia per voi sia per tutti gli altri utenti detto questo torniamo a noi e andiamo a vedere il conflitto narrativo cos'è a cosa serve e perché indispensabile per la narrazione anche all'interno di un gioco di ruolo cominciamo come sempre a dare una definizione di che cosa sia inteso all'interno della teoria narrativa come conflitto il conflitto narrativo è la questione o il problema che si frappone tra un personaggio e l'espletazione della sua motivazione che detto in parole molto più semplici vuol dire che il conflitto è il motivo per cui un personaggio non può avere ciò che vuole se non ci fossero i koboldi in fondo al dungeon a difendere il tesoro e se il super cattivo non volesse conquistare la città gli eroi non avrebbero nessun motivo per agire e i giocatori non avrebbero alcuna scusa per premersi le meningi e cercare di risolvere la situazione va da sé che una quest in cui i personaggi ottengano immediatamente tutto quello che vogliono i giocatori non avrebbero fondamentalmente nulla da fare se non dichiarare cosa vogliono i personaggi e la quest finirebbe lì e questo sarebbe fondamentalmente noioso e non ci sarebbe alcun motivo per portare avanti quella quest la stragrande maggioranza dei regolamenti per il gioco di ruolo si basa proprio su questo principio ai giocatori viene presentato un qualche tipo di problema che sarà il loro conflitto e i giocatori dovranno utilizzare le regole e i loro personaggi per superarlo a seconda del gioco ovviamente ci saranno metodi diversi per farlo alcuni regolamenti prevedono di scomporre il conflitto nelle sue parti trasformare ogni parte in un singolo compito e poi superare una serie di tiri per portare a termine i vari compiti questo è il d20 system per esempio altri regolamenti permettono a un giocatore di eseguire una singola prova per risolvere un'intera scena come potrebbe essere un'avventura in prima serata in realtà non è importante qual è il tipo di regolamento che state utilizzando l'importante è che voi come master forniate sempre un qualche tipo di conflitto ai vostri giocatori in modo da mantenere il gioco interessante questo deve essere fatto a ogni livello del gioco sulla macro scala l'intera campagna dovrà avere una sua linea narrativa principale con un macro conflitto che riguardi le sorti del mondo e sulla micro scala la singola scena in cui i giocatori devono superare una porta la porta sarà chiusa i giocatori dovranno trovare il modo per aprirla quando all'interno del gioco per motivi di storia si vengono a creare delle situazioni in cui non è possibile non è pratico inserire un qualche tipo di conflitto realmente interessante normalmente quelle parti del gioco vengono tagliate l'esempio più classico è quello del viaggio tra due città nel caso durante lo spostamento i giocatori rischino degli incontri di venire a gritare i banditi o comunque di essere messi in difficoltà il viaggio verrà giocato e i giocatori verranno fatte fare varie prove nel caso non ci sia alcun pericolo nello spostarsi a una città all'altra quella parte verrà saltata e il master si limiterà a dire dopo tre giorni di cammino siete arrivati nella nuova città non tutti i conflitti però sono uguali tra loro e tipi diversi di conflitti possono portare ad avere risvolti diversi per la quest che state masterando e soprattutto avere una rilevanza maggiore o minore per quanto riguarda voi che state masterando la teoria della narrazione in generale quella che è usata per scrivere i romanzi i film i telefilm tutte le opere narrative fondamentalmente definisce tre principali tipi di conflitto il conflitto interno il conflitto esterno e il conflitto di relazione il conflitto esterno è il problema che gli eroi devono risolvere per portare a termine l'arco narrativo della sessione o della giocata che state facendo ovviamente la sua gravità dipende da quanto è rilevante l'arco narrativo in oggetto il conflitto esterno dell'arco narrativo principale della campagna probabilmente sarà qualcosa di grandioso il signore dei leech vuole conquistare il regno dei giocatori con le sue infinite armate di non morti gli alieni vogliono distruggere il pianeta dove vivono i personaggi giocanti l'intero universo come lo conosciamo smetterà di esistere se gli eroi non portano a compimento la loro quest il conflitto esterno di un arco narrativo minore o anche di una singola scena probabilmente sarà qualcosa di più diretto e banale gli eroi devono entrare nella stanza ma la porta è chiusa a difendere il tesoro c'è un boss che impedisce agli eroi di prenderselo quel giocatore vuole una nuova arma per il suo personaggio ma l'arma costa e il mercante non vuole fargli lo sconto il conflitto esterno è quello che i giocatori hanno con il mondo immaginario che li circonda e in quanto tale sta a voi come master provvedere loro costantemente dei conflitti esterni contro cui i loro personaggi debbano valutarsi ovviamente questi conflitti devono essere attinenti ai temi della campagna e al tipo di gioco che state giocando in un gioco d'azione i conflitti devono essere qualcosa che i personaggi possono risolvere sfondando l'acqua porta e sparando all'impazzata in un gioco investigativo i conflitti dovranno essere degli enigmi e dei misteri che i personaggi dovranno risolvere ovviamente questi conflitti devono anche essere relativi all'effettiva capacità dei personaggi giocanti e tecnicamente anche dei giocatori il master deve sempre valutare che le difficoltà in cui mette i personaggi del proprio tavolo devono essere pari alla competenza di quei personaggi un conflitto che i personaggi non possano in nessun modo risolvere non è un conflitto perché non c'è nessuna tensione narrativa i personaggi hanno semplicemente perso il conflitto interno riguarda il singolo personaggio e le sue motivazioni in pratica chi è quel personaggio e quali sono i motivi per cui agisce come agisce e come queste cose cambiano con l'andare avanti nella campagna il giovane contadino idealista partito dal suo villaggio in cerca di fama e di fortuna dopo anni di avventure innumerevoli peripezie avrà superato ostacoli inimmaginabili ma avrà visto morire tutti i suoi compagni e sarà diventato un duro mercenario estremamente potente ma cinico e disilluso questo tipo di conflitto viene fornito da ogni singolo giocatore e riguarda il proprio personaggio voi come master dovete collaborare con quel giocatore per sapere quale tipo di conflitto vuole portare nel proprio arco narrativo in modo da poter prevedere nella campagna scene situazioni in cui questo possa essere messo in luce ma vi dovete limitare a questo il conflitto interno di un personaggio riguarda il personaggio e quel giocatore ed è una caratterizzazione estetica che riguarda il singolo proprietario del personaggio e quello che a lui piace il conflitto di relazione riguarda appunto le relazioni che i personaggi hanno tra di loro potrebbe riguardare l'atteggiamento che i personaggi giocanti hanno con dei personaggi non giocanti particolarmente rilevanti per la quest l'antagonista il loro mentor e qualche loro alleato ma nel gioco effettivo principalmente riguarda il rapporto che i vari personaggi del party hanno tra di loro normalmente quando i giocatori creano i loro personaggi voi dovreste già incoraggiarli a portare al tavolo personaggi che abbiano verosimilmente delle motivazioni per agire assieme come gruppo due personaggi con ideologie differenti e obiettivi totalmente differenti difficilmente collaboreranno questo però non vuol dire che tutti i personaggi del party la vedano lo stesso modo e siano sempre d'accordo tra di loro a seconda delle preferenze dei giocatori e del tipo di storia questi conflitti interni al party potrebbero essere di scarsa rilevanza e magari inseriti semplicemente come momento comico il battibecco tra il paladino e il ladro perché il paladino ritiene i metodi del ladro dinos onorevoli e il ladro gli risponde sì però funzionano però potrebbe essere anche qualcosa di molto più rilevante nel tema principale della campagna le differenze filosofiche fondamentali tra radicali e puritani all'interno ed archersi per esempio questo tipo di conflitti dovrebbe essere lasciato totalmente in gestione ai giocatori cercando di intervenire come master anche solo inadvertitamente potreste causare dei favoritismi o rischiereste di schierarvi verso un personaggio verso un altro che potrebbe portare dei dissidi all'interno del party ovviamente però qua stiamo parlando di conflitti tra personaggi che sono positivi per quanto riguarda la narrazione litigi tra giocatori o situazioni in cui i personaggi giocanti si comportano in una maniera tale da impedire agli altri di giocare in quel caso voi dovete intervenire anche duramente per preservare il divertimento del party ma su questo bisognerebbe fare un altro video a parte anzi magari già settimana prossima adesso io ci penso diciamo invece che per questa settimana la finiamo qui adesso mi metterò a scrivere il prossimo video nella speranza che non diventi un rant fino ad allora vorrei sapere da voi se voi avete trovato altri tipi di conflitto specifici al gioco di ruolo o se avete trovato i modi più interessanti per rendere i conflitti come stabiliti alla narrativa generale come sempre se avete domande dubbi o perplessità scriveteli nell'area di commento qua sotto se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale schiacciate la campanella e iscrivetevi se non volete perdervi le prossime pubblicazioni io sono il Master Kai noi ci vediamo nel prossimo video